Prism e MQTT, ma perché insieme? Adesso parleremo della personalizzazione di Home Assistant con il protocollo open source per la domotica. Immaginate questo, l'abitare del futuro. In realtà è sempre più propenso ad avvolgere l'utente con la praticità della domotica, tipo per creare un'atmosfera rilassata tra l'accensione di una luce soffusa e la tua musica preferita, senza alzarti dal divano, magari anche al termine di una lunga giornata lavorativa. Questo è possibile grazie ai software gratuiti e open source per la domotica, progettati per essere il sistema di controllo centrale dei dispositivi domestici intelligenti come Home Assistant. Con Prism a questo quadro potete aggiungere l'attivazione automatica della ricarica dell'auto nella modalità da voi prescelta. Abbiamo progettato Prism Solar perché sia in grado di inserirsi nella conversazione con il sistema domotico, con l'obiettivo di favorire e stimolare l'attività spontanea degli utilizzatori. Consultando il manuale dedicato alla sezione Documentazione sul nostro sito, potrai leggere l'elenco dei comandi disponibili e maggiori informazioni. Il link lo puoi trovare anche sulla descrizione di questo video. La nostra è una community fatta di appassionati, persone il cui know-how consente di mettere le mani in pasta, intervenire e personalizzare funzionalità ovvero possibile. Addirittura, questa integrazione dà la possibilità di immaginare anche soluzioni a cui non avevamo pensato.